Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto nuove anticipazioni di Terra Amara, in particolare la puntata che vedremo in onda sabato 9 settembre. Dopo l'incidente con Sevda, Saniai trova sollievo parlando con Gaffur, il quale le consiglia di evitare ulteriori conflitti. Saniai rivela che Sevda l'ha minacciata di cacciarla dalla villa. Gaffur ammette che potrebbe farlo, ma sottolinea il pericolo di tornare a vivere nelle baracche con una bambina, quindi le chiede di cercare un accordo pacifico senza provocazioni. Il giorno successivo, durante la colazione, Beis nota l'assenza di Ilmaz la sera precedente e suggerisce a Fekeli di affrontarlo per le sue responsabilità. Mujaygan interviene, dichiarando di non desiderare nulla da Ilmaz. Quindi si allontana per andare al lavoro. Fekeli rassicura Beis che farà tutto il possibile per mantenere l'unità familiare. Beis esprime il suo disappunto su Ilmaz, affermando che le sue azioni e parole sono imperdonabili. Sostiene che Mujaygan sta ancora con lui solo per amore, nonostante sappia del suo amore per Zuleya. Beis accusa Zuleya di essere una donna pericolosa che influisce su Ilmaz e di essere la causa delle accuse di tradimento contro Mujaygan. In seguito, Ilmaz e Fekeli si incontrano in un locale. Ilmaz insiste sul fatto che il bambino non è suo, ma Fekeli suggerisce che potrebbe essere accaduto quando Ilmaz era ubriaco e ora deve accettare la responsabilità del bambino. Ilmaz rimane sicuro di sé, ma Fekeli mette in dubbio la sua lealtà e minaccia di non chiamarlo più, figlio. Ilmaz chiede a Fekeli se si fida di più di Mujaygan o di lui, sottolineando che dovrebbe capire la verità sul bambino. Dopo aver ribadito che il bambino non è suo, Ilmaz si alza e se ne va. Durante la colazione, Demir chiede a Saniai di chiamare Gaffur. Lei risponde che è andato in paese per prendere i pesticidi. Demir, arrabbiato, le rimprovera di non essere a conoscenza degli affari aziendali e di non svolgere il suo ruolo di amministratrice. Poco dopo, arriva Sermin, che rivela di essere stata in ospedale e di aver appreso che Mujaygan è incinta di nuovo. Demir commenta che ora il rapporto tra Mujaygan e Ilmaz migliorerà. Guarda Zuleya. Che invece rimane impassibile. Zuleya, trovando un pretesto per allontanarsi, va a piangere in camera. Demir la raggiunge e le dice che capisce quanto sia triste perché Mujaygan è incinta. Poi le chiede se Ilmaz è davvero degno del suo amore, dato che non la tocca contro la sua volontà ma la ama comunque. Demir suggerisce che Ilmaz non la ama, ma vuole solo sconfiggerlo. Zuleya lo implora di smetterla. Ed Demir se ne va. Dicendole che un giorno si renderà conto che lui è il vero degno del suo amore e che la aspetterà fino a quel momento. Nel frattempo, Sermin ha persuaso Sevda a seguirla al circolo cittadino per un caffè. Quando le due donne se ne vanno, Zuleya raduna tutti i lavoratori e annuncia che Ankar ha lasciato in eredità la villa e la fattoria, costruite con dedizione e amore, e ora tutti devono unirsi per preservarle secondo i desideri di Ankar. Successivamente, Zuleya e Saniyai cavalcano e Zuleya promette di proteggere la tenuta e di prendersi cura dei lavoratori. Arrivate al villaggio dei lavoratori, Zuleya e Saniyai trovano Ilmaz che ascolta attentamente le parole di Zuleya agli operai. Zuleya inizia a parlare del dolore per la perdita di Ankar e dichiara che continuerà l'opera di Ankar. Gli operai applaudono il suo nuovo ruolo. Quando Zuleya torna a casa, Ilmaz la raggiunge e le chiede se è diventata la signora Yaman. Zuleya risponde di sì, ma gli fa notare che lui sta per diventare padre per la seconda volta. Poi gli chiede se ha avuto rapporti con Demir, sostenendo di credere alle analisi di Mujeygan. Nel frattempo, al circolo cittadino, Beis e le sue amiche parlano dell'accusa rivolta a Zuleya e Beis si vanta di averla perdonata, ma vuole che tutti sappiano che è stata colpa di Zuleya. Fusan, che finora aveva sostenuto Beis, commenta che Beis dovrebbe vergognarsi per il comportamento di sua nipote. Racconta che Mujeygan ed Ilmaz non dormono più insieme e che Mujeygan ha una relazione con Fikret, nipote di Fekeli. Fusan spiega che tutti in ospedale ne parlano perché li hanno visti abbracciarsi. In quel momento, arrivano Sermin e Sevda. Sermin presenta Sevda come la seconda moglie di suo zio Adnan, molto amata da Demir. Le signore invitano Sevda a unirsi al loro tavolo. Nel frattempo, Ilmaz si avvicina ad Adnan, che sta giocando da solo, e lo abbraccia. Zuleya corre subito per riprenderlo, ma Ilmaz rifiuta di darle il bambino. Inizia una discussione, ma quando Ilmaz fa per andarsene con Adnan, Zuleya scoppia in lacrime e gli chiede di non separarla dal figlio. Ilmaz alla fine cede e le restituisce il bambino. Poi le dice che non le ha mentito e non ha avuto rapporti con Mujeygan. Zuleya gli risponde di aver visto le analisi che confermano la gravidanza e la gioia negli occhi di Mujeygan. Nel frattempo, al circolo, mentre le signore conversano amabilmente con Sevda e lodano la sua bravura come cantante, Beis torna al tavolo e viene presentata a Sevda. Sermin esprime le sue congratulazioni a Mujeygan per la sua seconda gravidanza, ma Beis reagisce con freddezza. Fusan le chiede il motivo, e Beis risponde che, per tradizione, è prudente aspettare alcuni mesi prima di annunciare una gravidanza per evitare il malocchio. Gaffur torna finalmente a casa, e Saniye gli chiede dove sia stato. Lui risponde di essere andato a comprare pesticidi. Saniye, delusa dalle sue bugie, lo accusa di essere un bugiardo, dato che Demir ha già provveduto ai pesticidi. Gaffur reagisce violentemente, gridando che Saniye lo rimprovera costantemente. Saniye i ribatte sostenendo che lui mente costantemente e lo minaccia di cacciarlo se lo sorprenderà di nuovo con un'altra donna. Nel frattempo, in paese, si diffonde la voce che Mujeygan e Fikret abbiano una relazione, alimentando le speculazioni. Nel frattempo, Demir è ad Adana, dove incontra Ilmaz. Lo congratula per l'arrivo del secondo figlio e lo esorta a diventare più responsabile e forte con l'arrivo di un secondo bambino. Demir consiglia a Ilmaz di abbandonare sogni irrealistici e di accettare la realtà. Il giorno seguente, Fekeli si incontra con il suo amico Turan e, dopo aver discusso del dolore della perdita di una persona amata, gli consegna una busta. Nel frattempo, Gaffur si reca in un centro medico per sottoporsi a una visita medica necessaria per l'emigrazione in Germania. Nel frattempo, Ilmaz, mentre è in paese con Cetin, apprende delle voci che circolano su una presunta relazione tra Mujeygan e Fikret. Furioso, Ilmaz aggredisce e spara agli uomini che stanno discutendo del pettegolezzo, quindi se ne va di corsa. Cetin corre ad avvisare Fekeli e Mujeygan, riferendo che Ilmaz potrebbe aggredire Fikret a causa delle voci che ha sentito. Fekeli chiede spiegazioni, e Cetin, esitante, rivela che la gente parla di una presunta storia tra Fikret e Mujeygan. Sia Fekeli che Mujeygan rimangono sconvolti dalla notizia. Ilmaz raggiunge Fikret nell'azienda e lo minaccia con una pistola puntata alla testa, accusandolo di aver tradito lui e aver messo incinta Mujeygan. Fikret nega con fermezza, ma Ilmaz lo esorta a smetterla di mentire e a morire con dignità. In quel momento, arriva di corsa Fekeli, che gli dice di fermarsi e scoprire se quella è davvero la verità. Ilmaz risponde che Fekeli non dovrebbe intromettersi, ma Fekeli urla di sparare se ritiene che sia vero. Poco dopo, Mujeygan arriva di corsa e, con fatica, ammette di aver mentito e di non essere incinta. Tutti e tre la guardano con incredulità. Mujeygan si rivolge a Ilmaz e confessa di aver mentito per impedirgli di andarsene. Aveva sentito Zuley a parlare di una fuga insieme e temeva che Ilmaz le avrebbe lasciato il bambino. Quindi aveva mentito, ammettendo di aver utilizzato il test di gravidanza di una paziente perché era disperata e lo aveva fatto per il bene del loro figlio. Ilmaz, furioso, prende Mujeygan per un braccio e la costringe a salire in macchina. Va via mentre gli altri cercano in vano di fermarlo. Nel giardino di Villa Yaman, mentre Zuley e Sevda conversano amabilmente con Sermine Fusan, Demir ascolta un pastore che gli riferisce che ha visto Ankar alle rovine poco prima di essere uccisa. Era sola e sembrava tranquilla. Poi, improvvisamente, Ilmaz arriva sgommando, interrompendo la conversazione. Così terminano le anticipazioni, lasciando tutti nell'attesa della prossima puntata di Terra Amara. Ora che Ilmaz ha appreso la verità da Mujeygan, resta da vedere come reagiranno Zuley e Demir di fronte a questa rivelazione. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. E se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!